Questo invece parla di spacciatori tunisini e di bambini che nessuno doveva avere e che invece alla fine continuano ad arrivare. I cassoletti infiamme fanno un odore strano e i notti, i discorsi seri, ieri intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni, non siamo egocentri, ci come i gatti scappati dai condomini. Facevi risorgere i binari morti e ricuciti i posti a tutti, facevi risorgere i binari morti per portarci al discount a fare acquisti. Guardando i muratori che camminano sui tetti, fare con i nostri palazzanti progetti, che pianeti che ci precipitano in cucina e ci dispano i letti. I letti matrimoniali, qui dormiamo da soli come cani investiti, come i bambini mangiati dai remocristiani. Facevi risorgere i binari morti e ricuciti i posti a tutti, facevi risorgere i binari morti per portarci al discount a fare acquisti. E andiamo a fare la spesa là, la lotta armata al bar, la lotta armata al bar. E andiamo a fare la spesa. 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 che non avremo di questi cazzo di anni in zero!